Musica Bene, salve a tutti amici e ben ritrovati Insieme ai prossimi terri E oggi siamo qui tornati con Sankred Unity Siamo stati con l'assassino Arnaud Dorian Assino o quasi Dopo la fuga della Bastia Grazie all'attacco dei russionali Siamo riusciti a scappare dalla prigione Dove abbiamo incontrato Belek Che sembra essere un'assassino molto vicino A nostro padre e quindi come lui è un assassino Però noi prima di tutto siamo venuti tornati dall'Isis Al palazzo della Serra Ma lei aveva dato un'accoglienza un po' fredda Ci ha cacciato addirittura Non avrebbe tutti torto che alla fine a casa nostra Non direttamente ma indirettamente Suo padre è morto E quindi lei sconvolta era un po' cacciato Adesso che ormai sembra che tutto il suo castello sia caduto Arnaud a questo punto si è trovato molto sulla spada al muro E agire di fare una cosa Ossia di seguire i consigli di Belek E trovare L'assassino che si trovano Non è lì Quindi noi per andare avanti Mi sono scoprì Per scoprì cosa succederà Mi sono andato avanti Quindi bando alle ciance E che viaggio inizio Let's go Bene C'è qui con la missione rinascita La sequenza duo del ricordo duo di rinascita Ora che non è libero E trovare Belek Per fargli molte domande E direi che sono lecita Queste domande Ma è solo qualcosa Sul nostro padre Visto che lui è sempre sapendo molto Suppongo che un normale indirizzo sia banale Ok Vuoi indagare Nella Saint-Chapelle Penso che Spargo il pieno Stiamo molto bene Come deve vedere Signore Bene Mi sono andato i calci Scoprì un po' Intanto Vi voglio parlare un po' del gioco Che Sicuramente con una dinamica È molto simile a Simq 2 Un personaggio che Tende ad essere simile a Ezio Per il carisma del ragazzo Anche se Ezio È tutta altra roba E anche la storia In cui Sempre un ragazzo Che è ignorante Su quello che Ci conta I segreti di suo padre Ma anche del signore Della sé stesso E che ora È stato costretto Diciamo A Siamo Cataputtato in questo mondo E ovviamente Anche la storia d'amore Con Elise Un po' proibito Com'era per Ezio e Cristina Quindi molto Molte somminitudini Fra Questi personaggi Magari a Simq L'ha bisogno di ricreare Un poco La forma vincente Che da con Ezio Anche se purtroppo Diciamo Per me è stato un po' sbattuto Perché Ezio è stato Unico nel suo genere E quindi Questo ha portato Un poco Diciamo Schifare Diciamo in qualche modo Non solo per il fatto Del bagno Anche perché Se vuoi creare Un Ezio Che poi è fallimento Non va bene Dopo che ho preso qui Questo bello screen Posso andare a Indagare Saint-Chapelle Mi viene a trovare Un'entrata E non ci vedremo dopo Bene Mi hanno trovato La porticina Segreta E questo medaglione C'entra di sicuro Direi E io Vediamo un po' Cosa succede Con medaglione Che bella che è Essa Che è quello che si muovono Deve entrare Nel primo segreto Che solo i sims Conoscono E solo possono usare E ma Noi che dobbiamo fare Bene Arrivare lì Va bene Andiamo lì Vai 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 Bello Perfetto Un'entrata segreta Davvero Maravigliosa Direi Mi piace Lo stato Location Mi piace C'è Ci hai messo tanto Idiota Cos'è questo posto? Un rifugio Un rifugio Qui studiamo E ci addestriamo Lontano da sguardi Indiscreti Sono finito In un'altra prigione In un'altra prigione Non è una prigione Questa è un'arena Da questi tunnel Si raggiunge Qualsiasi punto Della città Senza farsi vedere Abbiamo occhio Davvero Davvero Non mi sembra Che si veda molto Non preferiresti avere un po' di panorama Utilizziamo questo posto da 600 anni Idiota E da quando Sei qui da solo Al buio Ad aspettarmi Non molto Guillaume Ti ha visto Dal campanile Bene Guillaume Ci ha visto Un'entrata notevole Mi prende in giro Sto distrutto Poi Vabbè No no Davvero Molto Tentro Vabbè Zitto Ci siamo E il candidato Si avvicini Allora Il figlio di Charles Dorian Torna da noi Bellac dubitava che venissi Hai cambiato idea Sono stanco Dei miei continui fallimenti Il signor della serra Mio padre Io voglio rimediare La morte del gran maestro della ser Pesa su di te Perché Impugnavi tu la lama Ha importanza La colpa è comunque mia È schiacciato dalla colpa Tu ti fidi davvero di lui? Sì Mi fido Perché è in grado di affrontare tutte le prove E può fare grandi cose Molto bene Dall'oscurità entrerai nella luce Dalla luce Tornerai nell'oscurità Sei pronto a compiere la via dell'aquila Se è il vostro modo di chiedermi se voglio aiutarvi Sì Allora beviamo Beviamo questa coppa che Io mi ho paura a bere Questi qua ne che conosco Gli ho paura a bere Ma Ah no Non ha paura Ah no Paura non ne ha Non ne ha Non ne ha Non ne ha Guardi Ehi Nato Puoi rilis ragazzo Gioventù Adulto Morte E noi qui muoreremo Mi sa Un po' di poti peggiori Anno Sai cosa si può riuscire a mettere in contro Le nostre paure Le nostre tubi Per poterci liberare Sto dai con l'occhi luminosi Che bello Qui è Versace Forza figlio, tu resta qui ad aspettarmi, io tornerò quando la lancetta arriverà in cima, e non devi combinare guai. Padre! Dov'è il ragazzo? Dobbiamo stare via. Padre eccomi, sono qui! Questo si distrugge qui, che è un po' che non si sente in colpa, perché che sia solo colpa, non si può fare. Abbiamo messo la torta. Un assassino, non abbia... No? Ma che sta cosa, neanche lo spende passi a lasciare queste cose. Ma che vero è un po' che ci sono? Devi lo fare, devo scerlavo. Oddio, 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 oddio! Oddio, oddio! Oddio, oddio! Quello fatta! Da wero increbbi questo viaggio! Non è a qualsiasi motiva, su va! L 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 il e il il campo della colonna ucciso il signor della serra ma che fanno dopo nuota saco ricordo no sappiamo l'aspetto della sua stanza sigillato nemmeno non faccio la faccio la pianta se fa crede che se stesso non ci sia il paderno charles che ok oddio perchè ok dobbiamo farci vedere altissimo vediamo le immagini dei nostri infatti la nostra nuova nascita diciamo molte noi abbiamo la gioventù perchè è cambiato dove l'assassino ecco lì non dobbiamo farci vedere in teoria io da altra parte non c'è di osservare non c'è di osservare ecco guardati dritto io sono solo un tifoso della scuola di casa dai fregato dac e che è questo è un moto davvero spero spero che sia sempre l'effetto dell'avvino del soccoso dell'assassino quindi request in pace request in pace request in pace nasconditi in piena vista non compromettere la contraterra scolpisci queste regole dalla tua seguile e sarai elevato e infragile e sarai morto alzati assassino ecco vediamo del morto il nostro è cancellato dal morto e i suoi peccati e fallimenti qui insieme a noi stanotte rinasce adetto della compratenda degli assassini bene è stato un viaggio da vero incredibile visto che si è durato poco direi di andare avanti con un altro ricordo magari un po' rinascito per non fare comunque è stato un viaggio diciamo nell'io di Arnaud che ci ha permesso i belacci delle colpe in qualche modo infatti dice Arnaud è morto ed è nato un assassino libero di servire credo ma vediamo cosa succede là quando rivoluzzo vengono insomma tanto sta per accadere e quindi tanto vivremo insieme bentornato ora che conosci la vita dell'assassino hai voglia di combattere e di unirti a noi diacono carica il file in arrivo abbiamo rubato un file ad absterco il mese scorso e contiene informazioni incredibili non condividiamo questa roba con chiunque se premerai play ti unirai agli assassini ma se vuoi combattere i templari se hai intenzione di salvare il mondo dalle grinfie dell'abstergo premi play siediti e preparati alla verità e mi sa che è premio play anche se... hai visto tutto il successo o no? siamo andati ad essere assassino così... non ti sia messo lì grazie 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 nel 1957 prese piede la teoria del DNA umano su modello a tripla elica alcuni anni dopo Watson e Crick demolirono quella teoria in favore del modello a doppia elica e oggi sappiamo in modo inconfutabile che la doppia elica è la base della vita allora perché il modello a tripla elica pareva valido? perché i raggi X di Rosalind Franklin sembravano confermarlo in realtà i primi test vennero effettuati su piccole tracce di DNA dei precursori in rari geni di un'antica razza ibridata con noi ora sappiamo che il DNA a tripla elica è la base del genoma dei precursori è una stele di rosetta genetica se potessimo leggerlo e decifrare il DNA dei precursori non c'è limite a quello che potremmo scoprire con la tecnologia dell'animus avremo accesso per la prima volta alla storia dei precursori scopriremo antiche lingue e antiche tecnologie perdute da recuperare provate a immaginare cosa potremmo fare con il sapere racchiuso nei frutti dell'Eden scoperte da far impallidire la scessione l'anno scorso abbiamo ricevuto un incredibile campione di DNA da un donatore che aveva addirittura un gene dei precursori su 25 il nostro lavoro comincerà da qui il nostro scopo è svelare la tripla elica la sequenza del genoma dei precursori e migliorare il mondo per sempre benvenuti al progetto Phoenix si un donatore è molto consensiente diciamo si un morto in pratica è morto per salvare il mondo ma che voi avete preso il corpo usato per i vostri scopi ecco a che punto siamo l'anno scorso l'abstergo ha ottenuto il corpo di un uomo chiamato il saggio uno dei pochi umani ricchi di DNA antico hanno iniziato a cercare altri saggi nel presente e nel passato più l'abstergo ne trova più sarà vicino al suo scopo abbiamo bloccato i tentativi di trovarne altri ma l'abstergo non si fermerà finchè non avrà un genoma completo allora perché Arnaud Dorian? perché un assassino nella Francia rivoluzionaria? sappiamo che durante la sua vita Arnaud è entrato in contatto con un saggio devi scoprire quando e dove ha avuto l'incontro se Arnaud era presente alla sua morte condurrà l'abstergo dritta al suo corpo e noi dobbiamo arrivarci prima ovviamente rientri in gioco tu non sarà facile i ricordi genetici vanno rivissuti in sequenza per avere dati stabili ma crediamo che sarai all'altezza e non sarai solo altri iniziati e assassini come te stanno facendo la loro parte in questa guerra se ti serve aiuto o addestramento puoi rivolgerti a loro bene carico la prossima sequenza bene a quanto pare noi siamo entrati a far parte ufficialmente degli assassini siamo in Parigi nel 4 gennaio del 1791 diciamo un momento importante che precede precede un po' quello che sarà poi il grande colpo di stato ossia l'uccisione del re se lo trascorri con Arnoux più avrai dati per migliorare la sincronizzazione con lui e per avere le sue abilità vieni guarda un po' qui quindi arma a distanza posso distruggere gli assassini i posti di monete i posti di monete ok ecco ovviamente ma qui ci sono tutte le cose che possiamo sbloccare grazie ai nostri abilità abbiamo due quattro abilità un assassino e possiamo sbloccare questa per esempio colpo a colpo ok andiamo un po' sbloccare un po' di forti vita mi sa 1 6 4 1 direi che questo qua è fondamentale è un'altra per non sbloccare per esempio i soldi che c'è non ho questo 10 ho questo 2 ma ogni serie niente qua a distanza di un punto c'è stato questo va bene ok bene quindi più beta sblocchiamo più un'ultima cosa mentre eri impegnato chiesto al diacono di scavare nei ricordi di Arnoux non stava fermo un attimo vedi quel segno è una missione co-op non so tu ma io adoro giocare in gruppo ho pensato che la cosa potesse piacerti queste sono missioni che Arnoux ha compiuto con altri assassini per darti un'idea di come funzionava all'epoca entra nei glitch e saprai tutti i dettagli te li ho assegnati sulla mappa va bene ok sì qua penso che siamo saltati per ora quindi grazie a diacono e a vesco possiamo riuscire un po' a entrare di più nelle minuzze di Unity o siamo un adepto esperto questo è un bel livello 1 quindi io non so che brucia un po' tutto i ricordi inombili possiamo aprire questa? ok visto anche come alla fine grazie penso più al ricordo e al dna del saggio più che ricorda di Desmond è uscita a diciamo attivare l'oggetto Eryx e quindi a ricercare più più dna possibile questi saggi per poi arrivare a epoche più antiche e quindi scoprire le armi magari create dai precursori via dicendo diciamo è una caccia al precursore diciamo è una caccia più alle armi del precursore della riconcilia delle città Isu e chi deve veramente avere il potere ma noi penso che in questo episodio possiamo concludere qui vi invito a lasciare un like se questo vi è piaciuto al commentare della vostra in questo modo iscrivetevi al canale e attivate la campanellina se vi lasciate notificazioni di cui usciranno è un'altra notizia vi ricordo anche di seguirmi su Twitch da fare live e sui social come Twitter Instagram Facebook così sapete più sul mio lavoro detto questo ragazzi al prossimo episodio passo e chiudo ciao